A2A ha presentato il quarto bilancio di sostenibilità a Brescia, un documento che rendi conto alle prestazioni ambientali, economiche e sociali del gruppo nel 2017. L'attività di A2A è fatta di molteplici servizi come la produzione, la distribuzione veneta di energie elettriche e gas al teleriscaldamento, l'illuminazione pubblica, il ciclo idrico integrato e l'igiene urbana. Abbiamo dei numeri importanti, devo dire, ne cito alcuni, 266 milioni di euro di ricchezza distribuita nel 2017 e quasi 800 milioni di ricchezza distribuita negli ultimi tre anni, 109 milioni di euro nel 2017 di ordine a imprese bresciane, di cui l'80% sono piccole o piccolissime imprese, oltre 350 milioni di euro nel triennio. 1840 persone che lavorano per A2A a Brescia, il dato forse che ci piace di più, 120 assunzioni solo nel 2017 e oltre 350 assunzioni negli ultimi tre anni, molte di queste sono assunzioni di giovani under 30 e quindi è un po' un nostro orgoglio, poter dare opportunità a giovani di valore che risiedono nella città e nel territorio bresciano. Stiamo investendo tanto sull'acqua, 30 milioni di euro investiti sull'acqua nel 2017 e soprattutto un piano al 2022 di oltre 230 milioni di investimenti sui depuratori, sulla riduzione delle perdite di rete e via dicendo. Infine, un dato, anche questo credo abbastanza interessante, circa 3 milioni di euro di liberalità destinate a iniziative in ambito culturale, sportivo, sociale del territorio, oltre al milione di euro che annualmente destiniamo alla Fondazione SM che a sua volta si occupa di sostenere iniziative in questi settori. Per la prima volta, inoltre, il report è incentrato sul contributo che le attività di A2A hanno avuto sull'attuazione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU. Hanno considerato anche gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 che riguardano una visione di sostenibilità a 360 gradi, quindi che comprende ambiente, economia e società. Tante sono le opzioni per raggiungere questi risultati, si sono fatte delle scelte e oggi c'è la possibilità per i cittadini bresciani, tramite il bilancio di sostenibilità, di poter verificare la bontà di questi obiettivi raggiunti. La sinergia con le istituzioni locali ha contribuito alla crescita costante della raccolta differenziata e per quanto fatto la loggia esprime soddisfazione, anche se, a detta del sindaco, non c'è da fermarsi ma c'è da proseguire con i numerosi obiettivi in programma per arrivare a vincere la sfida di avere Brescia come città modello per quanto riguarda la sostenibilità. Il Comune dice che abbiamo fatto dei bei passi avanti in questi anni. A2A ci ha aiutato a migliorare la raccolta differenziata, siamo passati dal 37% al quasi 68% di raccolta differenziata, abbiamo migliorato sull'immunzione pubblica, abbiamo abbattuto il cromosio valente nell'acqua, abbiamo un'azienda decisamente più efficiente che distribuisce più dividendi e ha più valore, però abbiamo davanti ancora delle belle sfide. La decarbonizzazione della centrale di la marmora, abbiamo la sfida del depuratore del Mella, abbiamo la sfida dell'efficientamento del termovalorizzatore con l'abbattimento dell'ossido di azoto, cioè noi non dobbiamo mai mollare la presa e per diventare sempre più come lo dobbiamo diventare un modello per il paese, dobbiamo correre e correre ovviamente anche attraverso l'opportunità che ci dà la più grande multiutilità italiana come A2A. Una parte dell'incontro è stata poi dedicata all'anniversario della stessa A2A che sta festeggiando i suoi primi dieci anni a Milano e a Brescia, città nelle quali sono in programma degli eventi che verranno presentati a breve. Ecco allora un bilancio di questo primo decennio. Diciamo che sono in corso i festeggiamenti, brevissimo riguardano soprattutto Brescia, ci auguriamo che sarà numerosa la partecipazione dei cittadini, però è il momento dei bilanci, sono bilanci in cui vanno valutati gli effetti economici di questi dieci anni. sono molto positivi in termini di investimenti, di assunzione, di riduzione degli infortuni e tantissime altre parametri. Allo stesso momento è interessante mostrare come è stato importante il cammino sulla sostenibilità che riguarda il teleriscaldamento, l'economia circolare, l'ambiente e su ognuno di questi punti oggi abbiamo avuto modo di discuterne ampiamente e di mostrare come questa grande aggregazione ha dato risultati molto significativi sia agli azionisti sia al territorio. Grazie. 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 Grazie.